allora buongiorno a tutti prima di iniziare le lezioni di oggi qualche informazione allora abbiamo più o meno definito le modalità d'esame non nel dettaglio ma in generale quindi vi racconto brevemente quella che quella che sarà poi la modalità d'esame che adotteremo allora l'esame sarà ovviamente a distanza quindi questo è ormai ovvio avverrà al calcolatore attraverso un meccanismo che vi permetterà di avere una pagina web aperta in cui ci saranno sostanzialmente come punto di partenza una serie di domande abbiamo parlato dell'esame l'esame ha comunque alcune parti teoriche quindi ci saranno alcune domande a cui rispondere oltre a queste domande ci sarà un link per aprire un collegamento con una macchina virtuale che sostanzialmente vi riprodurrà quello che normalmente vedete nei computer del live quindi voi vi collegate esattamente avendo la stessa esperienza sul vostro schermo di quello che vedreste in un computer all'interno del live a questo punto la procedura è sostanzialmente quella che utilizzavamo gli anni scorsi quindi dovrete attivare eclips da eclips sostanzialmente come fate esattamente voi a casa con i laboratori andare a fare il check out dell'esame vi daremo sul momento il link a cui collegarvi e cui poter fare il check out e dopodiché lavorate interagendo con questa macchina virtuale remota attraverso un'interfaccia che è contenuta all'interno del browser durante tutto questo esame ci sarà la webcam attiva e quindi avrete diciamo così una specie di sorveglianza attiva la durata dell'esame sarà sostanzialmente la solita quindi le due ore e la modalità non dovrebbe essere tanto diversa dalle modalità con cui svolgete a casa i vostri i vostri i vostri compiti quindi avrete eclipse la versione di eclipse sarà oxygen quella che abbiamo raccomandato il sistema per supportare questa modalità c'è ma è ancora in fase di diciamo di definizione completa quello che intendiamo fare speriamo di avere la possibilità e svolgere l'ultima esercitazione di laboratorio con questa modalità quindi l'ultimo venerdì che dovrebbe essere il 5 di giugno se non sbaglio invece di scaricare tutto da casa vostra avrete la possibilità di entrare in un sistema online in cui potrete sperimentare come poi si svolgerà l'esame questo è per noi anche un modo di verificare che tutto funzioni che nessuno abbia problemi in modo da poter poi essere sia noi che voi tranquilli per lo svolgimento dell'esame quindi l'idea è che per insomma inizio di giugno dovrebbe essere tutto a posto quindi dovremmo fare una prova se avete contatti in qualche modo ovviamente virtuali con i vostri colleghi che seguono il corso intendono dare l'esame spragete la voce perché se riusciamo a fare questa prova e tutti hanno modalità di verificare che funzioni che non ci siano problemi eccetera è meglio ovviamente per tutti il browser sarà il browser sarà Respondus sì è integrato il sistema integrato all'interno del sistema Respondus quindi ci sarà un meccanismo in cui ci sono alcune domande tipo quiz e una domanda in cui voi attivate un link e venite collegati alla macchina virtuale non vi so dire molto di più perché noi abbiamo fatto qualche piccola prova per conto nostro ma ovviamente dobbiamo mettere in piedi tutta la prima tutta l'esercitazione in maniera analoga a quello che faremo per un esame e dopodiché fare le prime verifiche noi e dopodiché far provare a voi ovviamente se in occasione della prima verifica non funziona nulla troveremo qualche altro sistema che possa funzionare per tutti il problema principale è il fatto che la connessione che voi avete potrebbe in qualche modo non essere ottimale e quindi quello è il problema che io ritengo sia quello più grave quindi dobbiamo verificarlo e trovare una qualche soluzione per questo tipo di problema domanda due ore sì sia per la parte di domande che per la parte di programmazione che è sostanzialmente quello che sono le regole già in vigore adesso allora domanda più avanti avremo modo di avere ulteriori dettagli allora gli esempi di domande ci sono già online quindi se voi andate sulla documentazione qui quindi su OP polito IT le modalità d'esame ovviamente sono ancora quelle vecchie ma il dettaglio è analogo quindi sulle modalità d'esame trovate il tema d'esame che punta un file question.html che a sua volta punta un questionario online quindi il questionario online che è questo contiene tre domande a risposta multipla quindi un esempio del livello di dettaglio del tipo di domande è già qua ulteriori dettagli appena noi abbiamo un'idea chiara di come funzionare al tutto quindi dobbiamo prima capirlo noi perché il sistema è stato messo in piedi da poco non è ancora completamente operativo e quindi dobbiamo prima fare la verifica in noi e dopodiché quando abbiamo capito esattamente come funziona cercheremo di spiegarvi tutto nel dettaglio per quanto riguarda la parte di java il criterio di valutazione che poi è anche quello che è scritto qua e doppio ve lo ingrandisco così lo vediamo meglio abbiamo due criteri il primo criterio è la percentuale di test superati dalla versione in laboratorio diciamo durante l'esame il secondo criterio è la quantità di modifiche applicate al programma per superare tutti i test quindi voi avrete una versione che consegnerete entro le due ore dell'esame su quella versione verranno eseguiti i test vi verranno mandati i test con i relativi esiti dopodiché a casa se non tutti i test passano dovrete andare a fare delle correzioni o delle aggiunte se non avete fatto tutto e sottomettere una seconda versione quindi il voto finale verrà dato dal numero di test passati quindi la percentuale di test passati in realtà sulla versione che avete consegnato durante l'esame e una seconda componente è data da quante modifiche ovviamente inversamente proporzionale al numero di modifiche meno modifiche fatte più il voto è alto le date al momento io non ce le ho ancora quindi appena mi danno delle stime ve lo dico le domande di teoria sono su tutto il programma quindi qualunque cosa che è stata detta durante le lezioni può essere soggetto di domande e ovvio che non vado a chiedere domande estremamente dettagliate quindi non verranno fatte domande sull'API di Java ad esempio perché comunque quelle sono oggetto della programmazione però potrebbero esserci domande sulle eccezioni piuttosto che sull'interfaccia, sull'erediterietà non sono domande estremamente dettagliate ma sono domande mirate a verificare che voi abbiate capito il concetto generale domanda per rispondere alle domande si può utilizzare Eclipse ad esempio per costruirsi degli esempi beh Eclipse lo potete utilizzare come volete quindi ovviamente se c'è una domanda per dire sulle eccezioni o sulle interfacce come dicevo prima se voi vi scrivete un pezzo di codice per andare a verificare se funziona ovviamente è lecito altra domanda durante l'esame avete a disposizione i testi esempio? sì, quindi sostanzialmente la configurazione che avrete durante l'esame è del tutto analoga a quella degli esercizi dei laboratori che avete visto finora quindi ci sarà un codice di partenza, ci sarà un testi esempio e quindi avete un minimo di verifica quindi l'idea è che le modalità che voi avete sperimentato durante i laboratori siano sostanzialmente le stesse ovviamente non ci sarà la versione estesa perché ovviamente l'esame è quello però non ci sarà sostanzialmente grossa differenza domande su pattern o approccio alla programmazione potrebbero esserci delle domande sui pattern allora non tutti i pattern in generale però magari quelli che abbiamo visto durante e commentato durante le lezioni sì, per cui se vi chiedo qual è il pattern che permette di andare a scandire gli elementi di una collezione mi immagino che siate in grado di dire che è un iteratore poi tenete conto che sono domande a risposta multipla quindi non è che dovete scrivere voi qualcosa dovete semplicemente capire tra le varie alternative qual è quella corretta o quelle corrette se ce ne sono più di una sulla parte di approccio di programmazione anche sì, la parte di software engineering che abbiamo visto la volta scorsa sapere quali sono i punti principali che differenziano un approccio tipo waterfall rispetto ad un approccio agile anche questo, sì ripeto, non ci saranno domande estremamente dettagliate ma abbastanza generiche quindi sui concetti principali altra domanda la documentazione sull'API sarà comunque disponibile? sì avrete accesso sostanzialmente a oop.it e quindi sostanzialmente infatti non questo ma queste quindi oop.it slash API ce le avrete a disposizione e quindi sì anche per questo non vi facciamo domande sull'API anche perché non ha molto senso uno, le utilizzerete comunque quelle di base durante l'esame due, non è l'obiettivo di questo coso farvi imparare a memoria tutte le API quindi se avete un piccolo dubbio su un certo metodo andate nella documentazione e verificate è il modo in cui si programma normalmente altra domanda il livello di difficoltà dei programmi che sono in oggetto d'esame è paragonabile con quello dei live grosso modo sì nel senso che alcuni dei live gli esercizi che avete visto nei live erano temi d'esame ovviamente a parte il primo che era ovviamente molto banale gli altri erano stati semplificati in modo che non ci fossero tanti elementi che non avevate ancora visto per cui, non so, non c'erano le collezioni che invece sono comparse nell'ultimo non c'erano le eccezioni non c'era l'input-output insomma, erano alcune cose che erano state eliminate però ragionevolmente quello è più o meno il livello di difficoltà tenete conto che torno un attimo indietro sulla procedura d'esame allora, a casa voi dopo circa 24 ore riceverete i test in quelle 24 ore cosa succede? è ovvio che per eseguire i test ci va meno delle 24 ore durante quelle 24 ore noi eseguiamo i test andiamo a verificare cosa è successo e andiamo a vedere se ci sono dei test critici che ad esempio non passano per nessuno se ci sono eventualmente delle ambiguità nel testo che sono state interpretate male e quindi cerchiamo di valutare il tutto è ovvio che poi se nessuno di voi su 5 esercizi ha fatto niente dell'ultimo requisito è ovvio che probabilmente il compito per le modalità in cui viene svolto era più difficile di quanto avevamo previsto e quindi ovviamente ne terremo conto nell'andare a segnare i voti quindi è il motivo per cui io non vi dico che ogni test non passato è un punto in meno perché dipende dalla difficoltà complessiva del compito che ovviamente noi possiamo valutare in anticipo in base alla nostra esperienza dei anni precedenti però andiamo a valutare anche a posteriori andando a vedere come è andato in generale il compito altra domanda è possibile che venga richiesta un'implementazione specifica per una richiesta ad esempio cambiare il metodo compare to oppure comparator per il metodo sort allora nella parte di codice sì nel senso che se viene chiesto in un certo ordinamento dovrete andare a scrivere il metodo compare to o mettere un comparatore in realtà utilizzare uno o l'altro poi è una scelta vostra quello che noi vediamo sono i requisiti quindi il risultato finale che vogliamo ottenere poi sta a voi scegliere il modo migliore per andare a realizzare quel requisito possiamo avere dei temi di esame vecchi per esercitarci? sì in realtà ci sono già allora vediamo un po' se dovrebbe esserci il link qua qui in questo repository ci sono un po' di temi di esame vecchi ok? con il tema il compito di partenza e con la soluzione quindi questo è un punto di partenza ce ne sono anche alcuni un po' più vecchi che sono scusatemi che sono qua tenete conto che questi sono decisamente più vecchi questi temi di esame e quindi soprattutto i primi sono stati fatti prima di Java 5 quindi nel progetto di partenza e nella soluzione non ci sono i tipi generici ok? fatto salvo questa differenza rispetto a quello che saranno i compiti più recenti la struttura o la tipologia di richiesta è analoga a quelli un po' più recenti ok? se vi vengono altre domande eccetera poi allora domanda visto che in realtà riformulo la domanda non la leggo direttamente visto che in realtà l'esame è una prova nel senso che dobbiamo vedere se tutto funziona se tutto regge se ci sono problemi eccetera si considera una modalità alternativa o una data di riserva nel caso in cui vada storto per il momento no però sicuramente terremo conto della modalità nella peggiore delle ipotesi farete il compito a casa vostra senza nessun controllo e dovrete firmare un'autocertificazione che l'avete fatto da soli ok? se per uscire di casa basta un'autocertificazione per l'esame probabilmente potrebbe anche bastare però diciamo che le modalità di esame raccomandate dal Politecnico non includono quelle di farlo tranquillamente a casa e poi fare l'autocertificazione quindi non è una scelta esclusivamente mia però sicuramente prima di fare l'esame faremo tutti i test e quindi cercheremo di farlo nelle condizioni di sicurezza se non fosse possibile cercheremo una modalità che sia la più tranquilla possibile l'esame è già una condizione un po' di stress ovviamente aggiungere quella anche l'aleatorietà dello strumento ovviamente cercheremo di non farlo ok? per cui l'idea è quella che vi ho illustrato prima se all'atto pratico scopriamo che non è percorribile cercheremo un'altra soluzione l'obiettivo è comunque darvi la possibilità di dare l'esame nelle condizioni migliori allora domanda ma non si potrebbe utilizzare un sistema tipo OBS che sostanzialmente permette di riprendervi durante l'esame quindi voi fate il video e poi lo mandate allora le modalità d'esame quindi le varie alternative non le posso decidere io nel senso che la settimana scorsa ci è stato chiesto dall'Ateneo di indicare di scegliere tra quattro possibili modalità come intendevamo svolgerlo una delle possibilità era quella di fare una specie di esame orale in videosorveglianza ovviamente in un corso da 20 persone quella è la soluzione ideale oppure un esame scritto in videosorveglianza io ho lo schermo in cui ho 20 persone che vado a vedere e ragionamente funziona il problema è che voi siete un po' più di 20 quindi non è percorribile le altre di modalità sono una modalità a quiz online che ovviamente io la eviterei nel senso che non vi posso chiedere di scrivere un frammento di codice vuol dire è abbastanza diverso da quello che è il contenuto del corso oppure la modalità con per l'appunto le macchine virtuali e quindi io ho scelto tra quelle che mi venivano messe a disposizione dell'Ateneo non metto in dubbio che ci siano altre modalità che potrebbero interiore essere migliori però per il momento a fronte delle modalità che l'Ateneo mi dà a disposizione io ne ho scelta una ed è quella che vi ho più o meno raccontato ora se poi non funziona e allora ci ingegneremo e troveremo sicuramente qualche altra soluzione resta il fatto che nei prossimi giorni nelle prossime settimane appena abbiamo qualche indicazione più dettagliata in base anche ai nostri test vi racconterò quello che è il risultato l'obiettivo è che voi sappiate che tendenzialmente l'esame lo farete utilizzando Eclipse come avete fatto con i laboratori finora utilizzando dei progetti analoghi a quelli che avete utilizzato nei laboratori e alla fine sottomerete il programma esattamente come avete fatto per i laboratori e riceverete l'esito dei test di nuovo esattamente come nei laboratori quindi l'obiettivo è di non cambiare troppo quella che è la vostra esperienza attuale dei laboratori anche nell'esame in modo che sia un contesto a voi noto e quindi la parte tecnologica non sia un problema quindi possiate concentrarvi su interpretare i requisiti scegliere le soluzioni migliori in termini di java e poi implementarle le domande teoriche sì saranno tre quindi ci sono tre domande teoriche più la parte di programmazione non pensiamo di aumentarle nel senso che dovrebbero essere quelle ok ovviamente se poi avete domande c'è sempre modo di farle e avere chiarimenti una volta che abbiamo soprattutto le modalità esatte provate verificate allora sì c'è una penalità per le domande teoriche allora torno qua modalità d'esame allora no sono sopra risposta assente 0 punti risposta corretta 1 punto risposta errata meno 0,5 risposta completamente errata vuol dire che essendo delle risposte scelta multipla in cui potete scegliere di più se immaginate che su 5 alternative la prima e la seconda siano corrette voi non scegliete nella prima nella seconda ma scegliete la terza la quarta e la quinta ok quindi il complemento e quello vuol dire meno mezzo punto quindi se non avete idea non rispondete quindi non perdete nulla domanda domanda a una domanda a una domanda dell'esame possono esserci più risposte corrette sì potrebbero esserci più risposte corrette potrebbe essere addirittura nessuna quindi ci sono una serie di opzioni e voi dovete andare a capire se ciascuna di esse è corretta oppure no ok allora sull'esame comunque ovviamente torneremo appena avremo fatto le nostre verifiche quindi vi daremo magari qualche dettaglio operativo in più e soprattutto vi daremo la possibilità di provarlo per il resto io spero che voi stiate riuscendo a seguire gli argomenti fare i laboratori allora è ovvio che i laboratori possono portare delle difficoltà è ovvio che se voi non aveste nessuna difficoltà a svolgere i laboratori sarebbero sostanzialmente poco utili quindi per imparare purtroppo bisogna un po' sbattere la testa contro dei problemi trovare le soluzioni e quindi sostanzialmente imparare quello che poi verrà utilizzato successivamente quello che a questo punto vorrei fare oggi è introdurvi un nuovo argomento poi vi pubblicherò una lezione completa con tutti i dettagli ma vorrei iniziare a vederlo con voi con calma con alcuni esempi in modo che poi quando arriva la lezione dovrebbe essere un po' più chiaro l'argomento è quello che riguarda l'input-output come facciamo a fare l'input-output in java allora qualcosetto l'abbiamo già visto parlando di system in scusate system out system air nei nostri vari esempi abbiamo visto che è possibile fare un output chiamando dei metodi su questi oggetti quello che vorrei fare ora è darvi un quadro completo di come funziona l'input-output in java in modo da collocare all'interno di questo quadro i pochi esempi che abbiamo già visto sinora allora tutto l'input-output in java si basa su un concetto astratto che è quello di stream di elementi quindi uno stream di elementi può essere legato a un file su disco allo standard input-output a una connessione di rete a una connessione con un dispositivo ad esempio tramite una connessione usb qual è l'idea di base è che qualunque sia l'origine o la destinazione di questi stream io faccio un'operazione che è esattamente la stessa leggo o scrivo non c'è differenza tra scrivere su una connessione usb verso una stampante piuttosto che scrivere su un semplice file di testo locale l'operazione da un punto di vista di java è la stessa cosa cambia è la parte iniziale in cui io mi collego a uno piuttosto che all'altro in java gli stream di input-output ricadono in due grosse categorie quelli orientati ai caratteri e quelli orientati ai byte ricordiamoci che i caratteri in java sono trattati con la codifica unicode a 16 bit quindi utf16 quando vogliamo avere a che fare con lettura o scrittura di file che utilizzano dei caratteri file o comunque qualunque altra sorgente o destinazione che utilizza dei caratteri noi utilizziamo due classi di base che sono le classi reader e writer con varie sottoclassi quindi reader permette di leggere dei caratteri writer permette di scrivere dei caratteri l'altra grossa famiglia è quella che è orientata ai byte in cui le due classi principali sono input-stream e output-stream questi sostanzialmente trattano sequenze di byte per cui se dobbiamo avere a che fare con dei contenuti testuali ragionevolmente utilizzeremo reader e writer se abbiamo a che fare con dei contenuti binari immaginate di dover andare a scrivere il contenuto di un'immagine di un video di suoni quello che volete invece utilizzeremo input-out-stream tutte le classi che si trovano all'interno del package java.io che include ovviamente le quattro che vi ho menzionato gestiscono tutte le situazioni anomale tramite due tramite scusate un tipo di eccezione fondamentale che è io exception quindi l'io exception è l'eccezione che viene generata da tutte queste classi quindi tanto per darvi un'idea se io ho dei dati input-out-stream li leggono direttamente quindi leggono un byte per volta quindi qualunque sorgente o designazione di dati su un computer può basarsi sui byte quindi questi due classi e le classi derivate semplicemente vi permettono di leggere un byte per volta o comunque un blocco di byte quando invece ho una versione orientata ai caratteri quindi le classi reader e writer la mia applicazione legge e scrive dei caratteri e le classi reader e writer o le loro derivate fanno un'operazione di encoding e decoding verso i dati perché i dati potrebbero essere codificati in ad esempio UTF-8 che è la codifica più comoda diciamo quella di default per Java ma potrebbero essere codificati con altre codifiche quindi ricordate quando abbiamo parlato delle diverse codifiche in base al tipo di codifica io devo fare una conversione in modo da trasformarlo in un carattere che viene poi letto e utilizzato all'interno della mia applicazione Java che è comunque sempre codificato con UTF-16 quindi le stringhe contengono questo tipo di caratteri e quindi devo fare conversioni da e per il formato utilizzato nel mio file nella mia connessione di rete o quello che volete a questo punto vediamo un po' in pratica come possiamo andare a fare lettura e scrittura di caratteri quindi iniziamo la parte di legata ai caratteri e poi dopo passiamo a quella dei byte quindi iniziamo con un esempio quando io ho a che fare con scusate che eccoci qua allora quando io ho a che fare con dei file normalmente quello che faccio è mettere questi file se sto parlando di Eclipse all'interno del progetto quindi quando io ho un progetto posso fare new abbiamo già visto come possiamo creare package classi o interfacce ma io posso anche andare a creare semplicemente un file quindi scelgo un file e lo chiamo esempio.txt e qui vado a scrivere il contenuto del mio file a questo punto come faccio a leggere questo file ad esempio a stamparlo devo utilizzare un oggetto di classe reader quindi ho un reader r iniziamo a metterlo a null poi dopo vediamo come possiamo crearlo reader come tutte le classi che permettono di trattare gli stream di input output è dentro il package java.io quindi lo devo importare a questo punto avendo un reader io posso andare a chiamare il metodo r.read il metodo read è fornito con diverse varianti quelle che vediamo illustrate qua abbiamo sostanzialmente un read che ci legge semplicemente un carattere un read che ci legge un array di caratteri un read che legge il tutto in un buffer di caratteri e poi c'è questa variante che sostanzialmente permette di andare a leggere dei caratteri all'interno di un array ma non a partire dall'inizio quindi a partire da una certa posizione ok quindi i primi due sono quelli che noi andremo a utilizzare quindi così noi andiamo a leggere un carattere ovviamente read può lanciare una eccezione qualunque attività di lettura potrebbe darci un problema immaginate che il file non sia disponibile o quello che volete ci sia un errore di connessione un errore di lettura il file si è danneggiato le possibilità sono tantissime quello che facciamo è andare a lanciare un'eccezione quindi chi ha scritto la classe reader andrà a generare un'eccezione nel momento in cui non riesce a fare la lettura e quindi devo andare in qualche modo a gestirla quindi se ricordate parlando di eccezione abbiamo detto che le eccezioni o le gestisco e quindi metto un blocco tra i catch oppure le rinvio al chiamante per semplicità io faccio un rinvio al chiamante ovviamente fare un throws all'interno del main vuol dire che in presenza di eccezioni il mio programma termina quindi va bene per i nostri esempi molto semplici ma nella realtà di solito quando c'è un errore di lettura di un file è bene innescare qualche strategia che permetta di recuperare l'errore quindi segnalarlo all'utente aprire un altro file ci sono tanti modi di farlo ma l'ideale è comunque avere in mente qualche strategia quindi diciamo che leggiamo il nostro carattere un aspetto interessante è che read lo vediamo qua restituisce un intero e non un carattere perché perché sostanzialmente read deve anche poter segnalare un evento particolare ovvero la fine del file quando la lettura raggiunge la fine del file quello non è un errore anche perché noi non possiamo saperlo prima ok se noi cerchiamo di leggere da un file che non esiste la colpa è nostra ma se noi cerchiamo di leggere tanti caratteri e ovviamente non possiamo sapere in anticipo quanti caratteri ci sono nel file ma andiamo a leggere uno dopo l'altro e quindi andare a leggere un carattere oltre la fine del file non è considerato un errore quindi non comporta la generazione di un'eccezione quello che succede è che read che cosa fa restituisce un valore speciale il valore speciale è il valore meno uno quindi static final int end of file uguale meno uno meno uno come scritto anche qua nella documentazione corrisponde a il valore che sostanzialmente usando il complemento a due ha tutti i bit a uno allora due domande il perché read restituisce un int lo sto spiegando ora se è andato via l'audio riparto per quanto riguarda i metodi no read non è un metodo statico viene chiamato su R ho messo null perché torniamo dopo su le varianti di file che possono essere scusate le varianti di oggetti di tipo reader che possono essere generati ok allora qui in realtà devo creare un reader connesso al file esempio punto txt ok lo faccio dopo ci focalizziamo prima sulla lettura quindi abbiamo detto read legge un intero se noi andiamo a considerare come è fatto un intero esame di fondamenti di informatica quindi fondamenti di informatica si chiamava quando l'ho sostenuto io informatica del primo anno un intero è sostanzialmente un valore almeno in java codificato su 32 bit quindi abbiamo sostanzialmente 0000000 ok ogni valore esadecimale corrisponde a 4 bit quindi per arrivare a 32 ce ne servono 8 questo è il valore 0 ovviamente se io devo andare a scrivere un intero scusate un carattere un carattere occupa 16 bit quindi se dentro un intero io devo andare a memorizzare il valore di un carattere andrò a utilizzare soltanto 2 byte che sono quelli che io vi ho insegnato come x ok quindi questo significa che ch assume valori tra 0x 0000000 e 0x 0000 ff ok domanda in c i caratteri hanno il peso di un byte solo che noi qui stiamo parlando di java dove i caratteri pesano due byte perché sono codificati in utf8 quindi normalmente il vostro carattere fa quello quindi se io vado a convertire int int scusate char carattere uguale cast a char di ch che cosa succede? succede che verranno considerati soltanto i primi 16 bit quelli più più bassi e verranno messi dentro il carattere che comunque per l'appunto ospita 16 bit abbiamo la necessità ricordate quando parlavamo di valori speciali delle delle funzioni io ho la necessità di restituire un valore speciale che mi dice fine del file peccato che tra i caratteri non esiste il carattere fine del file quindi l'idea è restituisco il valore 0x ff 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 meno 1 per indicare la fine del file ok qualunque carattere restituito qualunque carattere valido restituito da read avrà i due byte diciamo più a sinistra più significativi messi a 0 se invece ho raggiunto la fine del file avrò tutti i byte tutti i bit in realtà a 1 e questo corrisponde come valore intero al valore meno 1 quindi l'idea è che noi andiamo a leggere un valore che è un intero perché in quell'intero può esserci o un carattere e quindi nei due byte più bassi oppure un valore che segnala la fine del file e quindi meno 1 quindi o abbiamo i due byte più bassi che conterranno il valore oppure ho tutto a 1 e questo significa fine del file quindi se il valore è meno 1 sono alla fine del file altrimenti vado a prendere i due byte più bassi e quelli li interpreto come il valore di un carattere codificato utf16 quindi se ch è uguale a endofile che abbiamo definito lassù come meno 1 allora system out println fine file altrimenti faccio la conversione in carattere e dopodiché posso fare system out println poletto e vado a mettere il carattere quindi leggo un intero se quell'intero vale meno 1 allora significa che ho raggiunto il final file altrimenti se non è meno 1 e quindi non ha tutti i bit pari a 1 vado a prendere la sua parte i due bit i due byte scusate in cui è codificato il carattere cioè faccio questo sostanzialmente faccio questa operazione prendo un valore che è codificato su 4 byte e lo vado a codificare su 2 byte il passaggio da intero a carattere è quello ho 4 byte ne prendo soltanto 2 che sono quelli che ci stanno in un carattere e uso quelli come valore quindi butto via gli zeri a questo punto ho letto il carattere e il risultato ovviamente andando a leggere il nostro file dovrebbe essere il primo carattere del nostro file che è l'h a questo punto resta il passaggio che vi dicevo prima ovvero di collegare il lettore l'oggetto reader a un file come faccio vado a utilizzare una delle tante sottoclassi di reader che sono specializzate per diverse tipologie e di sorgenti ce n'è una che possiamo come possiamo facilmente intuire si chiama file reader che permette di andare a creare un reader che è collegato a un file quindi posso dire che r è uguale a new file reader a cui passo il nome del file che è esempio.txt file reader ovviamente è una classe che deve essere importata dal package Java.io ok a questo punto se io vado ad eseguire il mio programma scusate letto H quindi ho letto il primo carattere in realtà un carattere per volta è un qualcosa di poco utile quindi quello che normalmente faccio è ve lo riscrivo qua sotto vado a creare un file reader e poi while ch uguale r punto read diverso da end of file faccio un system out punto print del carattere quando ho raggiunto la fine del file semplicemente ho concluso domanda il file txt deve essere nella cartella principale del progetto per omettere il path nel costruttore del file reader sì infatti infatti io vi ho creato esempio punto txt dentro la cartella del progetto in questo caso quando io vado a creare esempio punto txt vuol dire che vado a prendere il file che si trova lì in generale la raccomandazione è a meno che qualcuno non vi dia un path completo utilizzate la cartella principale del progetto oppure una posizione relativa per cui ad esempio se io qui all'interno del mio progetto vado a creare una nuova scusate una nuova un nuovo folder quindi una nuova cartella che posso chiamare non so dati posso andare a mettere il mio file esempio punto txt dentro la mia cartella dati ok a questo punto per poterlo leggere dovrò andare a dire dati slash esempio punto txt in generale la mia raccomandazione è utilizzate il più possibile dei percorsi relativi anche perché se voi andate a mettere un nome di file che è c due punti slash mio disco slash prove slash pippo dati slash esempio punto txt nel momento in cui passate il vostro codice a qualcun altro che lo vorrà utilizzare ecco qualcun altro dovrebbe avere esattamente quella cartella o crearla che ovviamente è un qualcosa di poco comodo per cui in generale utilizzate il più possibile dei percorsi relativi in modo che stia tutto sotto il vostro progetto o comunque sia in una qualche posizione ben nota e i vostri file siano facili poi da utilizzare anche se trasportate il tutto su un altro computer vi faccio notare che io ho utilizzato lo slash diciamo stile unix quindi lo slash normale non il backslash questa notazione funziona sia in ambiente diciamo unix like quindi ubuntu mac eccetera che sui sistemi windows quindi sui sistemi windows potete comunque utilizzare lo slash normale e tendenzialmente vi riconosce le sottocartelle quindi riesce a gestire entrambe le varianti a questo punto eseguo e ovviamente mi viene lanciato un'eccezione nel senso che il file not found dove qui all'inizio ok quindi quando lo leggo per la prima volta devo andare anche qui a specificare il tipo corretto quindi a questo punto ok letto h e poi a questo punto qui ho la stampa perché c'è questa cosa qua invece di hello world esattamente perché ch è un intero e quindi essendo ch un intero se io lo stampo print come println mi stampa la rappresentazione numerica dell'intero quindi devo fare un cast a carattere a questo punto se eseguo finalmente ottengo l'hello world corretto ok quindi domanda ma siamo obbligati a leggere carattere per carattere no io ho iniziato a carattere per carattere perché è quello più semplice quello che normalmente si fa se io voglio andare a leggere tutto il contenuto di un file è andare a leggere dei blocchi di carattere quindi la lettura a blocchi è quella che vediamo qua oppure a blocchi un blocco che cos'è un blocco è un array di caratteri quindi faccio un char array blocco uguale new char e qui metto la dimensione che voglio 2 4 6 1024 2048 4096 quello che voglio ok qual è la dimensione migliore del blocco in questo caso vale sicuramente la tipica risposta del buon ingegnere ovvero perfetto più 1 all'esame dipende dipende allora da dove stiamo andando a leggere perché un contesto sto leggendo da un file locale un altro contesto leggendo ad esempio da una connessione di rete altro aspetto importante è il file system che ho a disposizione come fatto ok sui file system moderni tendenzialmente funzionano abbastanza bene blocchi abbastanza grandi quindi intorno ai 4k però è un qualcosa che di solito va bene non è la risposta ok se voi avete bisogno di avere prestazioni elevate in termini di velocità di lettura dovete fare degli esperimenti e capire qual è la dimensione del buffer ideale quindi 4k ok ma potrebbe essere anche 4 byte non cambia nulla a questo punto utilizzo il metodo read a cui passo quindi l'altra variante del metodo read l'overload che riceve come parametro un array di caratteri quindi posso fare r r.read a cui passo il mio array di caratteri quindi questo qua blocco questo metodo che cosa fa restituisce il numero di caratteri letti perché perché se noi abbiamo 4k e andiamo a leggere un file che ha pochi byte è ovvio che non ci restituirà non andrà a riempire tutto il nostro array ma andrà semplicemente a riempirne un sotto insieme e quindi per noi è importante sapere quanti caratteri nell'array sono stati inseriti quindi avremo un valore intero n che questa volta non è il carattere letto ma il numero di caratteri quindi anche qui non sapendo le dimensioni del file da leggere posso andare a mettere un ciclo quindi while n uguale a read diverso da meno 1 meno 1 significa ho raggiunto la fine del file quindi non ho letto nulla anche qui posso utilizzare la stringa eof a questo punto che cosa ho? ho una sequenza di caratteri memorizzata dentro un array l'array però non mi non mi non devo utilizzare tutti i caratteri dell'array ok altrimenti ottengo un pasticcio ottengo dei caratteri che non c'entrano nulla quindi quello che devo fare immaginando di andare a costruire una stringa s è uguale a new string e poi vado a mettere il blocco se faccio così se mi fermo così prendo tutti i caratteri che stanno nell'array quindi tutti i 4096 caratteri li metto nella stringa ovviamente alcuni sono quelli che ho letto altri sono quelli che erano già presenti nel mio nel mio array 0 se è la prima volta che l'ho letto oppure caratteri residui da una lettura precedente se sono magari non al primo la prima iterazione ma sono la più iterazioni di lettura quello che devo fare è andare a mettere string a due costruttori che utilizzano un char uno che ha un array di caratteri che sostanzialmente prende tutti i caratteri e li mette dentro la stringa l'altro oltre ad avere l'array di caratteri ha due parametri che sono il primo l'offset cioè il primo carattere nell'array che voglio andare a considerare e l'altro è il numero di caratteri che voglio andare a mettere quindi prendere dall'array e mettere nella stringa e quindi 0 sarà l'offset quindi inizio del primo carattere e n è il numero di caratteri che voglio andare a utilizzare perché n sono i caratteri che ho letto quindi questo è il modo di andare a leggere blocchi di caratteri e quindi system out print print scusate s ovviamente non fa nulla l'ultimo perché non ho riaperto il file ok il file era già arrivato alla fine e quindi la prima lettura che cerco di fare è oltre alla fine del file quindi mi da meno 1 e quindi non stampo nulla quindi devo riaprire il file e a questo punto posso riprovare a leggerlo un'altra volta allora domanda quindi read inserisce nel vettore i caratteri ma alla fine restituisce solamente il numero di caratteri inseriti esattamente questa variante di read qui passo un array di caratteri sostanzialmente mette tutti i caratteri nell'array e mi dice quanti ne ha letti normalmente sono tutti i caratteri quindi il valore restituito sarà uguale alla lunghezza del mio buffer a meno che sia arrivato alla fine e quindi non ci siano altri caratteri da leggere e quindi in quel caso mi da un valore più piccolo io cosa faccio vado ad utilizzare quel valore lì per andare a dire va bene costruisco una stringa a partire da il numero di caratteri che ho letto domanda altra domanda in questo caso il controllo è sempre diverso da EOF perché non diverso da zero perché ci sono alcune condizioni in cui in realtà non ho raggiunto la fine del file ma ho letto zero caratteri vi faccio un esempio in cui questo può succedere voi avete una connessione di rete provate a leggere un certo numero di caratteri però dall'altra parte il server ad esempio che deve mandare i caratteri non vi ha ancora mandato nulla la connessione non è chiusa quindi non è non abbiamo raggiunto la fine del file però non è stato letto nessun carattere perché in quel momento il server non c'è ancora mandato nulla quindi cosa fa a read potrebbe restituirmi zero dicendo guarda non ho letto nulla perché il server non mi ha ancora mandato nulla tuttavia non è la fine del file quindi zero è possibile non è così frequente però è possibile che venga restituito zero perché in quel momento non ci sono caratteri da leggere ma non è finito il file quindi questo è il caso in cui effettivamente potrei avere zero ma non meno uno meno uno invece vuol dire chiaramente non posso leggere più niente perché è proprio finito il file quindi è inutile che vai oltre la differenza tra print ln e print è quella che comunque è in chat sostanzialmente io qui ho messo print perché non voglio aggiungere un a capo anche qua sopra ho messo print in modo che soprattutto qua sopra quando leggo un carattere per volta non voglio andare a capo voglio andare a mettere un carattere dopo l'altro allora è ovvio che io qui con 4096 leggo tutto in un blocco solo se io invece di mettere 4096 mettessi 4 ho più cicli e ovviamente tutto funziona allo stesso modo se volete giusto per farvi vedere che in realtà i blocchi che vado a leggere sono diversi ve lo scrivo così e vedete che ho letto 4 caratteri poi ho letto 4 caratteri poi ho letto altri 4 caratteri e poi vabbè questo è un a capo il carattere che c'è dopo il punto esclamativo nel nostro file è un a capo quindi quando stampo l'a capo effettivamente va a capo il mio input scusate il mio output e quindi qui ovviamente ho letto 4 4 4 e qui ho letto 1 se volete qui posso andare a mettere n più quindi metto un numero di caratteri oltre alla quindi vedete 4 caratteri H e l l 4 caratteri o u o 4 caratteri r l d esclamativo e un carattere la capo finale allora domanda quindi la read di un blocco riempie tutto il blocco sì finché o non riesco a leggere altri caratteri perché ad esempio nella connessione non mi arrivano altri caratteri quindi ho finito oppure ho un raggiunto la fine del file ok il carattere end of file in realtà non è presente nel file ok dentro il mio file non c'è un carattere che mi dice questo è l'ultimo carattere è proprio il file che è finito quindi nel caso specifico quindi ho 13 caratteri 4 8 12 più 1 13 dentro il mio file dopo aver letto il tredicesimo carattere il sistema operativo scopre che non ce ne sono altri da leggere quindi dice è finito il file una volta che io cerco di leggere oltre l'end of file allora mi viene restituito il valore meno 1 altrimenti cerca di mettere tutti i caratteri che ci stanno nel blocco allora domanda in questo caso Reed fa il cast a caratteri dei valori letti e li mette nel vettore allora attenzione non fa il cast a caratteri perché comunque quelli sono già caratteri il valore meno 1 che veniva restituito scusatemi qua da questo da questo read un carattere per volta è un trucco che ho utilizzato all'interno del read per dire se è un carattere normale te lo restituisco però nascosto dentro un intero se ho raggiunto la fine del file allora ti restituisco meno 1 è un po' come se fosse fatto così vi scrivo una specie di classe che può funzionare come reader ok classe simil reader di string ho un private string contenuto e poi ho un public int read e ho un altro private int posizione che cosa fa metto scusatemi un altro non metodo ma un altro costruttore string s e andiamo a dire che contenuto uguale a s quindi quando leggo un carattere per volta cosa faccio la posizione iniziale ovviamente sarà 0 vado a dire int risultato uguale a contenuto punto char et posizione posizione più uguale a 1 return risultato tutto questo funziona se abbiamo una stringa infinita ovviamente è possibile che a un certo punto la nostra posizione sia oltre la dimensione la lunghezza massima della stringa quindi prima di tutto facciamo if posizione è maggiore o uguale di contenuto punto length allora return meno 1 come faccio a leggere questa stringa sostanzialmente avrò la mia variabile sr uguale new simil stringa hello world metto esattamente gli stessi caratteri che ci sono nel file così abbiamo lo stesso risultato static a questo punto posso scrivere sostanzialmente lo stesso codice che ho scritto quassù non sr ma stessa cosa quindi ottengo esattamente lo stesso hello world che abbiamo ottenuto sopra l'idea è che il reader che è attaccato a un file mi dice ci sono ancora degli altri caratteri da leggere se no restituisco meno 1 altrimenti vado a prendere il carattere e lo metto dentro una variabile intera e restituisco quella variabile il punto è che io comunque devo restituire una variabile intera in modo che chi legge restituisca riceva comunque un intero non posso restituire una volta un carattere una volta un intero devo restituire sempre lo stesso tipo il tipo di ritorno è sempre lo stesso il trucco che uso è se non ho altri caratteri da leggere restituisco meno 1 altrimenti restituisco il carattere che ho messo però mascherato da intero abbiamo visto che essendo l'intero costituito da 4 byte io ne utilizzo soltanto 2 per memorizzare il carattere che ne richiede soltanto 2 e gli altri 2 li lascio a 0 giusto per darvi un'idea di come funziona quindi invece di andare a verificare se il contenuto della stringa siamo oltre la posizione va a vedere se il prossimo carattere è oltre la lunghezza del file ok giusto per darvi un'idea di qual è il criterio con cui viene fatto questo a questo punto proviamo a metterci dell'altra prospettiva proviamo a scrivere dei file ok per scrivere dei file ho bisogno di un writer w l'abbiamo già visto per il reader e immaginiamo facilmente come esista un new file writer nuovo punto txt import file writer e import writer ok a questo punto quello che posso fare è fare w punto write e anche qui posso passare aspettate che ve lo faccio aprire così abbiamo write può scrivere lo vediamo tra le varie alternative che ci sono qua un array di caratteri un intero perché un intero e non un carattere beh perché è accoppiato all'alto qui ho potuto mettere un carattere tranquillamente ok non è che passo un meno uno o altro è semplicemente per evitare di avere una conversione in più se passo un carattere posso leggere tramite read un intero e passarlo direttamente a questo metodo senza dover fare una conversione di tipo e quindi è puramente per ragioni di efficienza ok non c'è nessun altro motivo per mettere lì int invece di char potresti immaginare che lì ci sia effettivamente char e poi c'è ovviamente string perché perché ovviamente le string sono l'array di caratteri quindi invece di andare a fare il metodo get char array su una stringa e poi passare quello passo direttamente la stringa che è più semplice e poi ci sono le altre varianti in cui ho un array di caratteri con un offset e ho una stringa anche questa con un offset immaginiamo immaginiamo di voler fare un'operazione di scrittura molto semplice quindi se io faccio write questo è il contenuto del nuovo file domanda quindi nel write io inserisco se scrivo un char automaticamente viene convertito in intero allora vi eseguo questo allora alcune domande allora il problema con qualcuno che ha copiato il codice qua attenzione è che la classe simile reader di stringa deve essere statica altrimenti non funziona ok perché stiamo creando un oggetto di quella classe all'interno di un metodo statico e quindi deve essere statica anche la classe allora eseguo il mio programma e vado a scrivere questo contenuto nel file nuovo.txt fatto se vado a vedere qua nel mio progetto non vedo niente perché perché sostanzialmente Eclipse non si è accorto di nulla Eclipse ha i file se li crea lui ovviamente sa che ci sono e ci fa vedere se li crea qualcun altro ad esempio il programma che abbiamo appena scritto non si accorge di niente dobbiamo far notare a Eclipse che in realtà c'è qualcosa e quindi qua dobbiamo andare a fare un refresh cioè diciamo Eclipse guarda controlla bene tutti i file che ci sono nel progetto e fammeli vedere e quindi eccolo qua che compare il nostro file nuovo ok vado ad aprire il nostro file e non ci trovo niente cos'è andato storto qualcuno ha qualche idea non guardate le slide in anticipo perché lì c'è scritto ok la risposta che leggo adesso è bisogna chiudere il file esatto bisogna chiudere il file perché perché torniamo un attimo qui quando noi andiamo a fare un'operazione di write normalmente con qualunque operazione che noi facciamo di scrittura ad esempio su disco la scrittura non viene automaticamente fatta sul file sul disco perché probabilmente se andate a pescare nelle vostre memorie ricordate un'espressione tipo gerarchia di memorie o gerarchia di memoria qual è l'idea fondamentale è che all'interno di un computer ci sono diversi tipi di memorie dal disco fino a i registri che stanno dentro la CPU e questi diversi livelli di memoria sono caratterizzati da dimensioni che decrescono quindi il disco ha dimensioni enormi mentre i registri sono molto piccoli contengono diciamo un intero per volta dimensioni decrescenti e velocità di accesso crescenti quindi l'accesso a un registro della CPU è estremamente molto più veloce rispetto a un accesso su disco per cui qual è la strategia che viene utilizzata che io non è che vado a scrivere ogni singolo carattere su file perché altrimenti invece di impiegarci qualche anno un secondo ci impiego diversi millisecondi quindi quando faccio un'operazione di scrittura su file normalmente viene tutto messo in un buffer quindi una memoria intermedia abbastanza veloce in cui continuo a scrivere i vari frammenti a un certo punto quando questo buffer è pieno oppure come diceva il commento quando chiudo il file il contenuto del buffer viene scritto effettivamente su disco attenzione che stiamo parlando di ordini di grandezza di 10-100 volte quindi usando il buffer io sono 10-100 volte più veloce rispetto a che scrivere direttamente su disco quindi è un fastidio perché noi non vediamo direttamente le cose scritte però in termini di velocità abbiamo dei grossi vantaggi ok quindi questa è la spiegazione del perché non è stato scritto nulla perché è stato tutto nel buffer e il buffer non è mai stato scritto su disco perché non l'abbiamo mai chiuso abbiamo due modi per l'appunto di garantire che il contenuto del buffer intermedio venga scritto su disco uno il suggerimento che c'era in chat è fare w.close ok per cui se rieseguo il programma a questo punto e vado a riaprire il mio file a questo punto finalmente abbiamo il nostro contenuto ok altro modo è quello di non fare un close ma fare w.flash flash forza la scrittura della cache dei buffer intermedio su disco e quindi allo stesso modo di prima dentro il mio file nuovo contengo i contenuti che volevo scrivere quando uso uno quando uso l'altro flash sostanzialmente lo uso se poi devo ancora scrivere perché se invece ho semplicemente scritto un pezzetto di scrivere qualcos'altro dovrei riaprire il file in modalità non riscrittura ma accodamento e fare un'altra operazione invece scrivo flash tutto quello che ho scritto fino a quel punto va su disco e poi posso continuare a fare le altre operazioni di vorai il close è qualcosa che io devo fare alla fine in generale non fare un close è un errore grave ok per due motivi primo se non faccio il close non ho la garanzia che tutto il contenuto del mio buffer intermedio sia scritto su disco secondo motivo se non faccio il close il mio programma java continua a tenere impegnato all'interno del sistema operativo una connessione su disco le condizioni su disco non sono delle cosettine da poco richiedono risorse soprattutto in termini di memoria e di attività del sistema operativo e soprattutto ogni programma ha un numero limitato di risorse di questo tipo quindi se io apro tantissimi file a un certo punto ho finito e quindi non ne posso aprire altri per cui in generale un po' come la memoria in C che deve essere allocata e poi rilasciata in java devo sempre andare a chiudere tutti gli stream che apro allora domanda la cosa deve essere fatta anche con read o è automatica la cosa deve essere fatta anche con read non l'ho fatto prima perché era più difficile non mi veniva bene il discorso sull'output si vede che chiaramente non vedo niente ma la chiusura per rilasciare risorse deve essere fatta anche su read domanda non si possono fare due write di fila io posso fare tutti i write di fila che voglio quello che non posso fare è fare garantire che dopo un write senza mettere un flash quello che ho scritto finisca su disco quindi io posso scrivere tutti i write che voglio ok ad esempio potrei andare a scrivere e lo facciamo tra un attimo dopo quel contenuto andare a scrivere un ciclo che copia i contenuti del file che abbiamo aperto prima quindi quello di esempio all'interno del nuovo file e quindi lì ovviamente avrò tanti write uno dopo l'altro quello che non posso fare è fare un write dopo che ho fatto close in effetti se voi andate a vedere qui quando faccio w qui ho un errore cioè un warning scusate mi dice resource leak w is never closed cioè sto perdendo delle risorse che vanno accumularsi una dopo l'altra e a un certo punto satureranno la disponibilità la stessa cosa io ce l'ho qui resource leak r is never closed ok quindi il compilatore java ci segnala che abbiamo un problema come faccio molto semplice vado a fare r.close qui devo poi farlo qui e devo poi farlo qui e alla fine anche per il w andare a fare un close qui a questo punto ho risolto tutti i miei problemi di perdita di risorse quindi ricordatevi i file sia in lettura che in scrittura devono essere sempre chiusi soprattutto quelli in scrittura perché altrimenti non vi trovate niente altro caso in cui noi non faremo quello in questo corso però vi capiterà magari di scrivere dei programmi che funzionano come server in rete se questo writer è legato a una connessione di rete quindi voi siete un server che manda informazioni voi potete iniziare a fare una serie di write ma finché non fate un flash o un close quei dati non vengono mandati dall'altra parte della rete e quindi scrivete in locale ma il vostro client connesso non riceve nulla quindi flash e close devono essere utilizzati per garantire che quanto scritto venga mandato alla destinazione e dove la destinazione può essere il file su cui state scrivendo oppure la connessione remota in rete ok è ovvio che domanda il flash scrive su file pulendo il buffer di scrittura esattamente fa quello quindi prende tutto il contenuto del buffer di scrittura lo scrive su disco o dove deve scrivere e ovviamente svuota il buffer quindi a quel punto il buffer è vuoto e può essere può essere scritto domanda quindi flash su un reader non ha senso no su un reader un flash non ha senso nel senso che il buffer viene riempito leggendo da da disco quindi non ha senso perché non devo svuotarlo da nessuna parte domanda se nell'argomento di file writer inseriamo il nome di un file che non esiste il programma genera automaticamente il nuovo file sì il programma genera automaticamente il nuovo file quindi quando faccio un read se il file non esiste mi viene generata un'eccezione l'abbiamo visto prima se faccio un write e il file non esiste questo viene creato in realtà nel file writer qui abbiamo una modalità ma in realtà il costruttore di file writer ha diverse possibilità una è quella in cui vabbè posso passare un file non file descriptor ma ci arriviamo direi lo vedremo poi in futuro un metodo è questo quindi scusate una variante del costruttore è questa in cui passo semplicemente il nome del file un'altra variante è questa in cui passo il nome del file e faccio e passo anche un valore booleano che mi dice se voglio fare un append oppure no se scrivo true vuol dire che il file se esiste non viene cancellato se invece metto false vuol dire che non faccio un append ma semplicemente vado a scrivere sopra e quindi se voglio accodare a un file che già esiste devo mettere il secondo parametro append uguale a true in modo da non sovrascrivere il file quindi comunque quando file quando creo un nuovo file writer se il file non esiste lo creo se esiste già sostanzialmente ci scrivo sopra a meno che abbia messo append uguale a true domanda come faccio aprire il menu la tendina allora io quando mi posiziono qua chiedo ai clips di fare il completamento automatico che è ctrl e spazio a quel punto e clips mi dice tutte quelle che sono i possibili completamenti di quello che sta a sinistra della posizione attuale del cursore e quindi mi dice posso fare un file writer con un file con un descriptor con una stringa con eccetera il completamente automatico funziona in tanti modi per cui se io scrivo for e faccio ctrl spazio mi dice posso fare for iterate over array with temporary variable iterate over a collection for each eccetera e quindi mi va a generare il codice di conseguenza quindi il conto spazio è completamente automatico quello che volevo fare prima e che vi ho accennato prima è immaginiamo di voler andare a copiare il contenuto del file di ingresso quindi il nostro esempio .txt dentro il nuovo file che abbiamo creato quello che possiamo fare è andare a sostanzialmente riprendere vi ricopro tutto questo che c'era qua ve lo metto qui sotto allora tolgo le due variabili che avevamo già definito prima quindi vado a riaprire il file leggo e poi invece di andare a stampare quello che posso fare è fare w.write che cosa scrivo il blocco quanto del blocco beh tutto quello che ho letto cioè dalla posizione 0 fino per n caratteri quindi questo mi permette di andare a sostanzialmente prendere il blocco di caratteri che ho appena letto dall'input e scriverlo sull'output per cui se vado a prendere il mio file nuovo vedete che c'è anche l'headward con la capo che segue domanda in java come la fseq non esistono sì in realtà io ho l'fseq è sostanzialmente un modo per andare a spostare la lettura in una certa posizione i metodi dr di sull'output di un reader sono ad esempio skip che mi permette di saltare un certo numero di caratteri posso posso andare a mettere un mark quindi una posizione quindi volendo posso saltare avanti indietro all'interno di un file ora la lettura avanzata di file o particolare non è un aspetto fondamentale di questo corso però comunque esistono questi metodi analoghi adesso una piccola considerazione su come faccio a leggere dallo standard input ok ve lo metto all'interno di un altro file così evitiamo di fare troppi pasticci quindi una nuova classe esempio st in cos'è system.in system.in è un input stream ovvero uno stream di input che permette di leggere dei byte perché system.in sia un input stream e non un reader è complicato da spiegare sostanzialmente perché nell'interazione con un sistema operativo era considerato più corretto più semplice andare a utilizzare dei byte che poi venissero convertiti piuttosto che andare a utilizzare dei caratteri ci sono una serie di ragioni storiche di compatibilità varie fatto sta che system.in è un input stream e quindi sostanzialmente non ci permette di leggere dei caratteri ma ci permette di leggere dei byte e a questo punto convertire i byte in caratteri lo possiamo fare però non è una cosa tanto facile da fare per cui è ovvio che io posso fare system.in punto read esattamente come nell'altro caso quindi int ch uguale system.in punto read ovviamente read può lanciare un'eccezione ora voi direte sì ma sulla console come faccio ad avere un'eccezione al limite raggiungo la fine del file sì ma attenzione che quel read è un read definito nella classe di base input stream per cui read è esattamente lo stesso metodo sia che legga dallo standard input che legga da un file che legga da una connessione di rete e quindi il metodo potenzialmente può generare un'eccezione che poi il read dallo standard input non generi mai un'eccezione è un altro discorso ok il metodo read è definito nella classe di base input stream e lì c'è scritto throws exception io exception e quindi ovviamente tutte le sottoclassi anche quella che implementa system.in effettivamente può generare un'eccezione a questo punto se ch è diverso da meno uno quindi non abbiamo raggiunto la fine del file non dovrebbe essere sullo standard input sulla tastiera posso fare un char ch uguale a scusate carattere uguale a char di ch e poi system out punto print carattere da stiera ho letto un carattere a questo punto ovviamente si è fermato il sistema perché nella lettura dello standard input normalmente utilizzo un approccio bloccante ovvero il read si blocca finché non legge un carattere e quindi vado a mettere a finché non do l'invio in realtà system.in non legge quello che ho dato quindi faccio l'invio e quindi a questo punto da tastiera ho letto la lettera posso farlo con altri caratteri il punto è che nel momento in cui uso ad esempio la e accentata se ricordate quando abbiamo parlato di codifiche unicode di altre codifiche il risultato è che se io ho un carattere che è stato codificato con una certa codifica all'interno della console uso la codifica ISO western e lo interpreto in un altro modo il risultato è che non ho esattamente il carattere di partenza quindi cosa ho scritto io una e accentata la e accentata è stata convertita con la codifica ISO 3859 1 e quando ho fatto questa operazione ho cercato di interpretare quel singolo byte che corrispondeva al carattere in un qualcosa che corrisponde alla mia lettera accentata e il risultato è sostanzialmente un carattere che non corrisponde ok quindi il problema è che devo fare attenzione nella conversione da byte a caratteri per questo motivo esiste una classe che si chiama input stream reader che si occupa della conversione da byte a caratteri nella maniera corretta quindi posso fare un reader uguale new input stream reader questo è un oggetto che sostanzialmente va a incapsulare un input stream e fa l'operazione di conversione quindi sostanzialmente è un reader che si appoggia su un input stream e offre i metodi di read che si appoggiano sul read dell'input stream ma facendolo porta una conversione da byte a caratteri e quindi qui posso passare system.in quindi input stream reader deve essere importato come pure reader a questo punto posso dire che ch è uguale a r.read e poi posso fare la stampa perché utilizziamo print e println in realtà qui potremmo utilizzare println così andiamo a capo il print di solito lo utilizzo quando stampo un carattere per volta in modo che non vada un carattere sotto l'altro usando la println ma vengono messi uno dopo l'altro a questo punto leggo il tutto faccio la conversione e la stampo quindi la prima volta abbiamo detto che utilizzando direttamente i byte ho un problema scusate perché in realtà mi è restato anche la capo il problema è che restano dei caratteri dei byte letti ma non tutti quindi facciamo così a questo punto metto una e accentata e me la legge correttamente domanda che differenza c'è tra reader di input stream reader allora sostanzialmente input stream reader è una classe che implementa reader e semplicemente adatta i metodi definiti nella classe astratta reader a sfruttare i metodi basati sui byte che sono presenti in un input stream reader quindi sostanzialmente adatta un input stream a un reader e di per sé è una classe che implementa reader e quindi esattamente come prima avevo un reader a cui assegnavo un nuovo file reader in questo caso ho un input stream reader quindi è uno dei tanti tipi di reader nel caso specifico è un reader che fa una conversione da byte a caratteri quindi in generale per leggere da input stream quello che faccio è di andare a utilizzare un input stream reader vedete che io posso leggere un carattere a per volta oppure posso leggere un blocco di caratteri la lettura di un blocco di caratteri però come pure quella di un singolo carattere non è il modo più comune o più comodo per andare a leggere da da tastiera da tastiera normalmente quello che facciamo è scrivere un qualcosa premere invio e quindi far leggere l'intera riga purtroppo all'interno del reader non esiste un metodo di lettura di una riga e quindi non esiste un read line il metodo read line è definito all'interno di una classe che si chiama buffered reader che è sostanzialmente un po' simile all'input stream reader ovvero è una classe che fa da adattatore ok cos'è un adattatore è un particolare tipo di di pattern in cui quando io mi trovo una classe ad esempio l'input stream che ha un metodo read che non si comporta esattamente come vorrei io nel senso che legge un byte mentre io invece vorrei leggere un carattere utilizzo l'input stream reader per andare ad adattare le funzionalità che ho già presenti nella classe a quelle che servono a me per cui questo è un adapter da da input stream a reader il buffer read reader è un'altra classe che è sostanzialmente adatta e fornisce la capacità di leggere da un reader e in più fornisce un metodo che si chiama readline quindi io ho un buffered reader pr uguale new buffered reader il buffered reader di per sé non fa nessuna attività di lettura o scrittura semplicemente si appoggia su un altro reader new input stream reader di system.in buffered reader ovviamente lo devo importare vi commento quello che c'era scritto sopra a questo punto posso fare string linea uguale buffered reader punto readline la linea letta da tastiera a questo punto si trova dentro la variabile linea che andiamo a stampare a questo punto se lancio qui mi aspetto un input dico questa è una riga di testo e finalmente riesco a leggere questa è una riga di testo per cui per leggere una semplice riga di testo utilizzando le classi java quello che devo scrivere è la linea che vedete qua devo creare un buffered reader a partire da un input stream reader il quale viene costruito a partire da system.in a questo punto ho il metodo readline che è quello banale semplice che potremmo utilizzare molto spesso per andare a leggere una riga di testo per volta questo è anche il motivo per cui nei primi esempi fino a questo punto non abbiamo mai fatto la lettura a partire da system.in perché in realtà serve questo tipo di struttura allora domanda cosa cambia tra buffered reader e scanner allora io qui non ho menzionato lo scanner ma lo scanner non è uno stream di input output ok è una classe che può andare a leggere dei contenuti a partire da un input stream ok ed è una una classe un po' più flessibile che mi permette di leggere ad esempio degli interi delle stringhe mentre readline è un metodo molto base che mi permette di leggere una striga di testo la classe scanner la possiamo facilmente andare a trovare scusate adesso se torniamo qua e andiamo a vedere le API allora se cerco scanner la classe scanner a parte la documentazione che c'è qua ad esempio ha una serie di metodi che mi dice has next float has next int has next line has next long quindi sostanzialmente tutti questi metodi permettono di andare a leggere da uno stream dei blocchi ok tendenzialmente lo scanner però si basa su l'interpretazione di una sequenza di caratteri ok non è tuttavia uno 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 stream mentre invece il buffer read reader è uno stream a tutti gli effetti con in più quel metodo readline che ci permette di leggere una linea altra domanda per leggere più righe è necessario ridicare buffer read reader no sostanzialmente io posso chiamare più volte il metodo readline e andare a leggere più righe una dopo l'altra qui ad esempio while true string l uguale br punto readline if l punto equals fine break altrimenti system out println quindi questa è la prima lettura a questo punto vado a scrivere linea 1 all output linea 2 all output fine e termine il mio programma allora perché serve il buffer read reader perché systemin ha un metodo read che permette di leggere un byte per volta quindi abbiamo già problemi di conversione tra byte e caratteri e quindi questa operazione non la possiamo fare direttamente abbiamo necessità di utilizzare un input stream reader che sostanzialmente adatta l'input stream in modo da poter leggere dei caratteri e quindi converte i byte che leggo in caratteri il problema è che l'input stream reader è un reader normale che ha la possibilità di leggere o un carattere per volta oppure un blocco di caratteri quello che io vorrei fare non è leggere un blocco di caratteri di lunghezza non determinata io vorrei leggere tutto finché raggiungo la fine della linea e dopodiché leggere la prossima linea quando io leggo un array di caratteri io non posso dire fermati quando trovi un a capo mi legge tutti i caratteri che ci sono invece ho bisogno del buff red reader che è finalmente la classe che ci fornisce questo metodo readline che cosa fa legge i caratteri uno per volta finché trova un a capo quando trova un a capo restituisce tutto quanto ha letto fino a quel momento domanda con system in read no scusate leggo la domanda con la input stream reader o system.in.read gli interi float sono interpretati come numeri no nel senso che se io scrivo il carattere 3 seguito dal carattere 2 quelli sono due byte separati non vengono riconosciuti come il numero 32 e quindi non ho la possibilità di leggere soprattutto su system.in.do mi aspetto di leggere dei caratteri l'input stream domanda l'input stream reader legge solo dei caratteri sì l'input stream reader serve esclusivamente per convertire dei byte in caratteri e leggere i caratteri o uno per volta o a blocchi il buffer reader ha questa capacità di leggere i caratteri uno per volta o a blocchi aggiunge la capacità di leggere righe di caratteri ovvero in grado di capire dove c'è la capo e di restituire tutto quello che è tutta la sequenza di caratteri che compongono la riga a capo escluso quindi il readline sostanzialmente legge la riga legge una riga a capo escluso quindi la nostra linea oppure qui sotto L non conterrà la capo ok allora se invece volessimo leggere un numero dipende se io voglio leggere un numero un la coppia di caratteri 4 e 2 come numero posso utilizzare o uno scanner che è la classe che abbiamo visto prima oppure leggere il valore e poi convertirlo in numero quindi torno sul nostro ciclo che abbiamo messo qua immaginiamo di voler andare a fare una somma di numeri int totale uguale a 0 leggo la linea se fine termino altrimenti int n uguale integer punto parse int di l e faccio totale più uguale a n quindi leggo la riga e poi e poi posso andare a fare un system out println totale due punti più per cui a questo punto se scrivo allora primo non mi serve nulla se scrivo 10 il totale 10 30 30 2 fine sto sto restando sulla classe buffer e reader che quindi mi legge una riga per volta altrimenti devo utilizzare lo scanner che è leggermente più complicato allora domanda questi metodi in cui io non so bene quanti caratteri vado a leggere perché una riga potrebbe essere lunga 80 caratteri potrebbe essere lunga 8000 8 milioni di caratteri hanno la stessa pericolosità della get s in c dove potrei andare a scrivere fuori da un array la risposta breve è no in generale no perché comunque il risultato è una stringa e la stringa per sua caratteristica non ha una dimensione prefissata i caratteri vengono letti uno per volta e vengono accolati dentro una stringa quindi non ho il rischio di andare a scrivere fuori da un buffer perché qua il buffer non è messo esplicitamente domanda altra domanda per la lettura da file se io voglio leggere degli interi devo utilizzare parsint? sì a meno che utilizzi scanner insomma direi non ne parliamo oggi poi nella lezione magari vi accenno qualcosa domanda sulla scrittura quanto è grande il buffer di scrittura? c'è il rischio che facendo un numero di write elevate il buffer non riesca a contenere tutti i caratteri? allora il buffer di scrittura funziona in questo modo quando è pieno viene scritto su disco quindi è probabile che facendo tante write oppure facendo write di grandi dimensioni io vada a saturare il buffer ma a quel punto il buffer cosa viene fatto? viene scritto su disco immaginando di scrivere su disco viene mandato sulla rete e viene svuotato e a questo punto posso scrivere tutto quello che c'è quindi non è un problema di dimensioni massime perché quella dimensione massima una volta raggiunta mi scatena la scrittura e poi svuota il buffer e permette di nuovo di scrivere la dimensione può avere degli impatti sull'efficienza però direi che non è questo il contesto in cui andare a fare questo tipo di ragionamento ok, noi ci limitiamo al fatto di sapere che esiste un buffer che verrà gestito in maniera automatica e quando è saturo verrà svuotato su disco e poi resta di nuovo disponibile ok ok, direi che vi do ancora qualche minuto se avete qualche dubbio da chiarire però per oggi considererei chiusa la lezione vi pubblicherò poi una lezione insomma un po' più standard con qualche esempio in meno e più formale su l'input-output che non è da utilizzare nel laboratorio attuale sarà da utilizzare poi in laboratori futuri ovviamente resto a disposizione se ci sono poi domande di chiarimento anche eventualmente su Slack ok direi che per il momento non mi pare che ci siano altre domande quindi tendenzialmente sospendo la registrazione